Sul versante opposto, cioè titoli che hanno sottoperformato l'indice, troviamo Enel, Enel che ha ritracciato nuovamente dopo alcune settimane in cui ha trovato il rimbalzo in area 6,50, 7,15 è un supporto di breve per Enel, quindi potrebbe essere che il titolo, come già accaduto la settimana scorsa, riesca a reggere sui 7,15 e poi da qua trovi nuova linfa per arrivare sui 7,50. Quindi il rapporto rischio e rendimento, al mio modo di vedere, potrebbe non essere malvagio su Enel in questo momento, perché è abbastanza vicino ai 7,15, quindi in caso di rottura dei 7,15 si può fissare un alert, un eventuale stop loss al speculativo di breve, con invece un target obiettivo sui 7,50, quindi nettamente favorevole il rapporto rischio-rendimento per andare a cercare un'operatività long.